E' Benevento Virtus Lanciano il match clou della 19esima giornata nel girone B di prima divisione. Di fronte la seconda contro la quarta forza del campionato. Insieme sommano 61 punti, ma a ben 7 lunghezze dividono le due squadre in classifica. Per il Lanciano è una sorta di banco di prova per verificare l'attendibilità della propria candidatura ad un posto nei play-off. Gara importante in ottica primato anche per il Benevento, unica fra le prime tre ad avere il turno casalingo. Altra sfida di grande interesse per l'alta classifica è Taranto-Atletico Roma. Gli ionici finora in casa hanno lasciato solo le briciole agli avversari, ma i laziali prima della sosta avevano dato l'impressione di voler tornare quelli d'inizio campionato. Non facile l'impegno della capolista nocerina, a Cava, dove i padroni di casa hanno necessità di punti per tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica, dove sono precipitati a causa delle penalizzazioni. Foligno-Juve-Stabia è quasi un testa-coda, ma proprio per questo pericoloso per entrambe. Detto del Cosenza, che riceve la Ternana, e del Siracusa, che ospita il Viareggio, gare che, almeno sulla carta, vedono favorite le squadre che giocano in casa, veniamo a Lucchese-Foggia. All'andata i Toscani fecero grande impressione e vinsero meritatamente, ma molte cose da allora sono cambiate. Oggi otto punti dividono le due squadre in classifica. L'una, il Foggia, strizza l'occhio ai play-off, l'altra, la Lucchese, guarda con paura ai play-out. Per i ragazzi di Zeman sarebbe opportuno cominciare bene il 2011 e tornare a far punti in trasferta. Gli ultimi furono conquistati a Pisa due mesi fa. Completano il quadro della seconda di ritorno Andrea Gela e Pisa Berletta, fischio d'inizio alle ore 14.30.